Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebbis Tiberina è riaperto il viadotto Puleto ai soli veicoli leggeri con velocità massima a 50 km orari. A causa di due frane sulla statale 12 della Betone e del Brennero chiuso in entrambe le direzioni il tratto in località Borgo a Monzano e sulla statale 64 Forrettana chiuso sempre in entrambe le direzioni il tratto tra Pavana e Ponte della Venturina. A Firenze, ultimo giorno in cui resterà gratuito il servizio della linea T2 della tramvia. Corsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!